L'ex procuratore generale Roberto Scarpinato, capolista al Senato per i 5 Stelle, spiega le ragioni del suo impegno in politica. L'intervento. L'ex procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato è capolista al Senato nella Sicilia Occidentale per il Movimento 5 Stelle, alle prossime elezioni nazionali del 25 settembre. E intervenendo al Fatto Quotidiano ha spiegato le ragioni del suo impegno in politica e tra l'altro ha affermato Siamo in una fase regressiva dello Stato democratico che alcuni politologi definiscono come il ritorno della clanizzazione della politica. Il moderno Stato costituzionale nasce dal superamento dei clan, cioè dei gruppi di potere locali che prima si contendevano a proprio esclusivo vantaggio le risorse dei territori. Oggi, venuti meno i grandi progetti collettivi, la contesa politica reale rischia di regredire a competizioni tra clan sociali, gruppi di interesse, ristrette oligarchie, interessate solo a spartirsi le risorse collettive. La democrazia italiana è fragile, sempre a rischio di involuzione autoritaria. La storia italiana è stata segnata da una criminalità di settori significativi delle classi dirigenti. Non a caso la giustizia è sempre rimasta al centro del dibattito politico. I miei colleghi stranieri non riescono a comprendere come e perché in Italia si arrivi a rischiare una crisi di governo per temi come la riforma della prescrizione, che altrove interessano solo specialisti di settore e sono relegati ad argomenti secondari. Ho dovuto fare loro un breve riassunto della storia politica nazionale per spiegare qual era la vera posta politica in gioco dietro l'apparente tecnicismo della questione. È in corso un inquietante processo di restaurazione del passato, di cui si colgono tanti segnali. È un passato di convivenza tra Stato e mafia, di occulte transazioni, tra Stato legalitario e Stato occulto. Un passato di rimozioni e di amministia permanente tramite ammenesia collettiva, che sta tornando ad essere la cifra del presente e del futuro. Ho scelto di candidarmi con il Movimento 5 Stelle perché Giuseppe Conte mi ha assicurato che la questione mafia, cancellata in questa campagna elettorale dall'agenda degli altri partiti, sarebbe rimasta invece centrale in quella dei 5 Stelle.